scende infatti alla stazione di roma pablo neruda il poeta dell'amore il poeta del popolo posta ma lui don pablo com'è ma lui ha la moglie però come la chiama amore davvero è poeta tutta donna tutta donna come è possibile donna che guardi non è mai visto una come come si diventa poeta tu lo sai cosa hai fatto metafore ma veramente sì e che metafora t'ha fatto è una poesia ma puoi scrivere una poesia per beatrice se lei si mette a fare tutto si storia una poesia mamma quando lo vinci preme una bella